Sicuramente dovremmo partere molto meglio e diminuire un po' gli errori diretti perché la nostra arma migliore è la battuta e l'impresa, quindi dovremmo attaccarle molto sotto questi fondamentali, è stata una gara con molti alti e bassi, dobbiamo semplicemente artigliare e pensare alla prossima gara ed essere molto ciniche e pensare al nostro obiettivo.